Si è svolta questa mattina, presso la sala di riunioni della ex GIL di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Noi Artisti di Questa Terra. Un evento giunto ormai alla sua diciannovesima edizione, che si svolgerà il prossimo giovedì 13 agosto a Montorio dei Frentani. Una manifestazione che funge da ottimo spiraglio per la riflessione, la stessa che cede spessore all'evento. La parte musicale della rassegna vede la partecipazione dell'orchestra sinfonica giovanile mulisana, in cui spicca il nome di Michele Perniola, l'attore di Bracciaretti Rossi che molto si è distinto per la promozione del Molise, grazie alla realizzazione di un videoclip che ad oggi ha raggiunto un milione di visualizzazioni in rete. Sul palco di Montorio anche il gruppo calabrese dei Carboidrati e poi il Vaion di Tutti, due tragedie teatrali tramite le quali si rivive il dramma di San Giuliano di Puglia e della Terra dei Fuochi. Il nostro intento è quello di valorizzare, dare merito a tutti i personaggi e artisti che si sono distinti nel campo dell'arte e della cultura in genere. Poi portare i grandi eventi nelle piccole comunità e da diversi anni lo stiamo facendo con successo. Nella nostra manifestazione sono passati circa 2000 artisti, sia regionali, nazionali e anche internazionali. L'evento è stato patrocinato dalla regione Molise ma i finanziamenti messi a disposizione sembrano non essere mai abbastanza per tali eventi di grande portata. La questione dei finanziamenti è molto seria, bisogna rivederli, aggiustarli in modo da dare la possibilità a tanti artisti molisani di lavorare meglio, con più serenità e naturalmente quando ci sono questi presupposti aumenta la qualità, bisogna creare anche degli spazi culturali che purtroppo non ci sono più nel nostro territorio. Soddisfatto e onorato di presenziare tale evento anche il consigliere regionale con delega alla cultura, Domenico Ioffredi. Cominciamo a uscire fuori dal guscio sempre cercando di tenere dritta la barra sulla qualità dell'offerta perché è questo che vogliamo far diventare del Molise. Cerchiamo di andare avanti per proporre ai potenziali turisti un livello accettabile di cultura per cui facciamo una piccola bomboniera di questo Molise.